Il menisco è una struttura fondamentale che aiuta a proteggere e a stabilizzare il ginocchio. A volte però, seguito di un tramo o di un'usura progressiva, il menisco può essere danneggiato. Questo causa dolore e limitazione nei movimenti. A seconda del tipo di lesione potrà essere necessario un intervento chirurgico per riparare oppure rimuovere la parte danneggiata del menisco e qui sotto in descrizione trovi maggiori informazioni tra la differenza tra sutura meniscale e meniscectomia. L'obiettivo di questo video è quello di darti informazioni corrette sulla riabilitazione dopo un intervento chirurgico al menisco, al fine questo di supportarti nel percorso di recupero. Capirai le fasi della riabilitazione, gli esercizi più raccomandati, più semplici ed alcuni consigli per una riabilitazione efficace e sicura. Vedremo quindi come comportarsi nella fase acuta, ossia nei primi giorni dopo l'intervento e poi vedremo cosa fare nella fase di ripresa ed infine l'importanza di quella che è tutto l'iter della riabilitazione. Veniamo quindi alla prima fase, ossia la fase acuta. Per acuta si intende i primi 3-5 giorni dopo l'intervento e in questa fase è fondamentale la gestione del dolore e del riposo. L'obiettivo è quello di far sgonfiare il ginocchio e iniziare una prima blanda mobilizzazione dell'articolazione per riattivare un po' la muscolatura, soprattutto quella quadricipitale. Attenzione, qui bisogna già fare le prime differenze. Se ti sei sottoposto ad una meniscectomia, quindi una rimozione del menisco, l'asportazione di una parte del menisco, generalmente la mobilizzazione è libera senza nessun tutore e le stampelle in genere servono solo per risparmiare un po' il carico. Discorso completamente diverso se hai fatto una sutura del menisco. In questo caso la mobilizzazione seguirà un protocollo e spesso dovrai tenere un tutore, soprattutto quando ti alzi in piedi. Nei primi giorni può essere normale qualche linea di febbre, generalmente sotto i 38 gradi, ed è normale assumere farmaci antidolorifici ed applicare ghiaccio sull'articolazione operata, quindi sul ginocchio. Dopo 3-5 giorni si passa quindi alla vera e propria fase di ripresa. In questa fase, che è la fase intermedia, si inizia la vera e propria riabilitazione. L'obiettivo è recuperare progressivamente l'articolarità e riattivare tutte le fibre muscolari che sono state inibite dalla lesione prima e dall'intervento poi. Vengono spesso utilizzati esercizi in isometria per riattivare la muscolatura. Un esempio classico è sollevare l'arto inferiore mantenendolo retto e contratto. Questo esercizio, se ben svolto, può riattivare una buona quota di fibre muscolari quadricipitali. Inoltre esistono dei dispositivi meccanici per muovere passivamente il ginocchio come l'artromotore. Anche qui attenzione perché chi ha fatto una sutura meniscale potrà aumentare la flessione del ginocchio solo a distanza di tempo e ad intervalli ben specificati. Alla fine di questa fase, che può durare da una settimana a 4-6 settimane, questo per la sutura meniscale, si passerà all'ultima fase riabilitativa. In questa fase vanno evitate attività che possono causare stress eccessivo sul ginocchio come correre, saltare o in generale fare sport, finché il ginocchio non sarà guarito completamente. Ultimo, ma probabilmente la fase più importante, è il recupero propriocettivo del ginocchio. I menischi hanno anche una funzione propriocettiva e una lesione di successivo intervento possono pregiudicare questa importante capacità. Ma andiamo in ordine. Per propriocettione si intende la capacità di percepire e riconoscere il proprio corpo nello spazio. Il nostro corpo è dotato di tutta una serie di recettori presenti nella cute, nelle articolazioni, nei legamenti, che inviano informazioni al cervello, il quale poi ha il compito di elaborarle e di trasmetterle. Il risultato è un messaggio di contrazione e rilascio dei rispettivi gruppi muscolari che conduce a un movimento fisiologico che vogliamo ottenere. Il recupero si svolge attraverso specifici esercizi attivi, molti dei quali vengono fatti eseguire anche con l'ausilio di strumenti come pedane oscillanti, superfici irregolari, il tutto per stimolare questi recettori periferici e il loro ripristino. Successivamente sarà fondamentale continuare gli esercizi di riabilitazione propriocettiva anche alla propria domicilio a casa. Dopo aver completato le sedute di fisioterapia, è importante che il paziente continui ad eseguire gli esercizi per mantenere e migliorare soprattutto i progressi ottenuti durante la riabilitazione. Gli esercizi di riabilitazione propriocettiva possono essere semplici e facili da eseguire anche a casa. Si può lavorare sull'equilibrio con esercizi come ad esempio su un piede o su una superficie instabile, oppure esercizi di rafforzamento muscolare che aiutano a migliorare la coordinazione e la stabilità. È importante che il paziente sia sicuro di sapere eseguire gli esercizi correttamente, quindi prima di iniziare a eseguirli da solo a casa è il caso di rivolgerti a un fisioterapista per un ulteriore chiarimento, a un professionista del settore. Inoltre è importante che rispetti i tempi di riposo e di recupero che sono tanto importanti quanto la riabilitazione. Bene, vorrei ringraziarti per aver guardato questo video sulla riabilitazione dopo un intervento chirurgico al menisco. Spero che le informazioni ti siano state utili. Se ti è piaciuto questo video ti invito a mettere un like ed iscriverti sul canale per ricevere altre informazioni e per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. La tua iscrizione e il tuo supporto sono molto importanti per me e mi aiuteranno a continuare a produrre contenuti educativi e di qualità. Grazie ancora per aver guardato il video e ti auguro una buona giornata. Ciao!